Le giornaliste sono vittime di attacchi per chi sono, se sono madri attaccano i loro figli, se sono mogli potrebbero anche attaccare i partner, i compagni, i mariti, quindi c'è questa componente che non vediamo negli attacchi contro i giornalisti maschi. E poi quando si parla di donne c'è anche l'aspetto che si aggiunge di etnia, di razza. Se c'è una donna giornalista nera non è soltanto vittima di attacchi, ma tre volte perché è donna, perché è giornalista e perché è nera. Non mi sembra di guardare ora, o di andare dietro il mio occhio. Ho pensato di arrivare a social media, ma poi le persone che sono là e che vogliono informazioni, che è la cosa più importante per me, poi perdono, e poi perdono. Uno dei problemi delle molestie online è che gli attacchi avvengono attraverso lo schermo di uno smartphone e questa è una lama a doppio taglio, perché chi attacca non realizza l'impatto delle loro parole e dei loro punti di vista sulla persona bersaglio, sulla giornalista. E questo è uno degli aspetti principali per cui le persone non realizzano che si tratta di un problema vero con conseguenze vere, proprio anche a livello di benessere emotivo della donna, della giornalista bersaglio. La malignità degli attacchi che soffrono le giornaliste vanno oltre il loro lavoro e la differenza tra donna e uomo in questo caso è che la donna riceve delle minacce a livello proprio di stupro e quindi si va veramente nella sfera fisica. Uno degli aspetti importanti di questo documentario, e quello che volevo appunto veicolare con questo lavoro, è che le giornaliste che ho intervistato dovevano essere proprio loro a raccontare le loro storie. Ecco perché non c'è nel documentario un narratore o un voiceover. Tutto ciò dimostra qual è l'impatto molto profondo di questi attacchi sulle giornaliste, però va fatta anche una distinzione tra un attacco fatto da una persona o un individuo contro la giornalista, ma anche gli attacchi invece coordinati, che hanno di solito uno scopo più politico. E quindi quando si attaccano a un giornalista, questo tipo di attacco non è solo rivolto al loro lavoro, ma anche alla loro credibilità. E questo è molto importante, perché questi attacchi coordinati cosa cercano di fare? Cercano di screditare e di diffamare il lavoro del giornalismo indipendente di qualità, che è molto importante anche come contropeso rispetto al potere. Cercano di screditare e esmere il lavoro di giornalisti, di qualità di giornalismo, che è molto importante con il popolismo e con quelli che sono in potenza. È un paese davvero scopo di essere in, e se sei staccato per un po' molto tempo, io credo che ha avuto severi repercussions per una persona. e io sono davvero, davvero, davvero gratuito che non sono stato in questo posto per un po' molto tempo.